Maurizio Costanzo, l'amico di lui rivela, ha bisogno d'amore, sta soffrendo. Sono ormai passate due settimane dalla triste notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo. Era venerdì 24 febbraio 2023 quando il mondo della televisione italiana è venuto a conoscenza che Maurizio Costanzo era deceduto. Dall'ora Maria De Filippi si è sempre mostrata forte e coraggiosa ma, a distanza di due settimane, parla il migliore amico di Costanzo, rivelando di essere preoccupato per Maria. Il migliore amico di Maurizio Costanzo, intervistato dal settimanale Nuovo, ha raccontato le ultime ore di vita del giornalista e conduttore. Successivamente l'uomo ha rivelato che attualmente la persona che più lo preoccupa è la moglie di Costanzo e conduttrice. Maria De Filippi. A tal proposito il migliore amico di Maurizio ha rivelato, Maria mi preoccupa. Perché io so com'è fatta e sono sicuro che dietro l'apparente distacco, nasconde invece una forte emotività profonda. Io mi ricordo di lei e quanto ha sofferto per la perdita dei suoi genitori. Certo. Lei potrà sempre contare sul supporto del suo figlio Gabriele e sfogarsi anche sul suo lavoro. Tuttavia sta soffrendo e ha bisogno d'amore. Secondo il racconto di questo uomo, il quale non ha rivelato il proprio nome, sembra che Maria cerchi di dimostrarsi una persona forte, capace di metabolizzare il lutto, ma a quanto pare in realtà è una donna abbastanza fragile e che necessità di tanto supporto e amore. Sempre l'amico di Maurizio, il quale ha scelto di rimanere nell'anonimato, ha poi raccontato l'ultimo incontro tra la figlia Camilla e Maurizio. Sempre secondo quanto narrato a nuovo, l'uomo rivela dell'ultimo loro incontro. Quando Maurizio era ancora cosciente e a poche ore dalla morte, dicendo, quando ho saputo che il suo quadro clinico era peggiorato, sono andato al suo capezzale. Al suo fianco, c'era sua figlia, Camilla. Lei ha chiesto a suo padre di recitare una preghiera insieme all'Ave Maria. Tuttavia, dopo aver sussurrato pochi versi, Costanzo ha detto di non farcela e di continuare lei nella preghiera e di continuare a pregare per lui. Infine ha poi parlato dell'eredità, tanto discusse in questi ultimi giorni. I giornali hanno più volte parlato della questione testamento, narrando beni e falsando la verità. A fare chiarezza è stato il migliore amico di Costanzo, dicendo a tutti di stare tranquilli. Che quando scritto sui giornali è tutto falso, così come aveva già annunciato ilegale della famiglia Costanzo. E che non ci saranno problemi di eredità in quanto i figli di Maurizio vanno tutti d'accordo. Io stiu già che voglio con tutto altceva, Inchide ochi, poti imagina che lumea è atta Si in plus poti spar su, su, sus, sus, sus Ai mi, ai mei, ai mee, ai mei, mi-au avut halo Gขþ de su, gขþ de su, gขþ de su, gขþ de su Gขþ de su pot e su satt Ati ten個 spieg Acum, tu kad nu, nu nu mai am nimic de ascuns Pot să me итоге dov Ho, mă, su Thing Grazie a tutti